Nella terra dei fuochi la marina americana accertò il rischio legato ai rifiuti vietando contratti di locazione militari in alcune zone. Era il 2011, lo fecero per poche migliaia di militari. Lo stato italiano è rimasto indifferente sino a pochi mesi fa. In una caffetteria barese allergologi immunologi parlano insieme a chimici ed epidemiologi del legame tra la qualità dell'aria e la salute. Il primo degli appuntamenti del congresso annuale Apollo Lucano della società italiana di allergologia e immunologia clinica. Il professore assennato cita la terra dei fuochi ma anche Taranto dove è stata di fatto bloccata sino al 2017 dal decreto Balduzzi Clini la valutazione del rischio sanitario. Se per le malattie tumorali il legame con l'inquinamento ormai tristemente noto, per patologie come l'asma, la rinite allergica e la bronchite cronica, il passo da fare è ancora lungo. È intuitivo che l'inquinamento atmosferico sia deleterio per la funzionalità respiratoria ma questo non è stato mai studiato e investigato approfonditamente e finché noi non conosceremo gli eventuali meccanismi che diciamo sostengono questa patologia non saremo in grado di curarla. fanno conosciute.